Squilla il telefonino, ti precipiti a tirarlo fuori dalla borsa o dalla tasca pensando che possa essere una telefonata importante e invece no, è il telemarketing. La classica telefonata commerciale che tenta un approccio con il cliente che spesso e volentieri non ne vuole sapere. Adesso con l'approvazione del nuovo regolamento su registro pubblico delle opposizioni, il servizio gratuito che consente ai cittadini di non ricevere chiamate per finalità commerciali su numeri di telefono di cui si è intestatari e che arriverà entro fine gennaio, queste telefonate finiranno o perlomeno diminuiranno in maniera consistente. Con le nuove regole l'utente potrà infatti scrivere qualsiasi numero di telefono, non solo fisso ma anche mobile ed è questa la novità. Ottenere il consenso è semplice visto che la richiesta è contenuta in molti dei moduli che bisogna compilare per l'accesso a vari servizi, dall'iscrizione in palestro all'attivazione di una carta punti di un supermercato. L'iscrizione a registro, secondo le nuove regole, cancellerà appunto tutti i consensi pregressi. Sarà anche possibile scrivere il numero più volte per eliminare autorizzazioni date inadvertitamente anche dopo l'iscrizione a registro. E saranno possibili solo le telefonate da parte di quelle aziende con cui si ha un contatto attivo o con cui lo si aveva fino a 30 giorni prima di iscriversi al registro.